Dai pareri? Melilli. Onorevole Melilli, prego. Mi chiama lei, Presidente? Se ha un giudizio, diciamo, riassuntivo, lo faccia pure, se no li chiamo io. No, perché ce ne sono alcuni che abbiamo ripescati e i relatori non hanno i numeri dei ripescati, questo è il tema. Aspetti un attimo, allora, aspetti che vedo con gli uffici se abbiamo anche noi questi ripescati. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie.